Adesso è anche finita la scuola, si allungano le serate, la luce, c'è bel tempo fino alle 10, c'è il caldone e con questa temperatura, con la fine della stagione, con la fine della scuola e con la sua demenziale didattica e formazione a distanza io vorrei dopo un anno di situazione psico assurda decretare la sconfitta di tutte le robe online la didattica a distanza, la videoconferenza, la videocall, facciamo l'aperitivo su zoom, due chiacchiere su telegram la sconfitta totale, la sconfitta totale dopo tutto questo tempo ancora adesso se guardate qualsiasi collegamento fatto così online invece di avere le persone in studio magari ce li hanno collegate in tv oppure video interviste c'è sempre quello che c'è l'auricolare messo male, quello che c'è l'audio acceso e c'è il ritorno quello che c'è la luce dietro e non lo si vede in faccia perché questo qui è un mestiere, cioè bisogna capire che bisogna avere un microfonino buono deve essere qui e non qua perché sennò non si sente un cazzo e non qua sennò si sente troppo, capito? se faccio così si copre la luce bisogna avere due o tre skills ed è ovvio che non tutte le persone che hanno delle cose da dire siano capaci di stare davanti a un video pensino al fatto che ci vuole un microfonino buono dov'è? che se tu metti il microfono qui si sente di più rispetto a qua ma se lo metti qua davanti sento anche tutti i tuoi sputazzi capito? non va messo qua davanti il microfono non va messo qua non si parla sul microfono anche del cellulare sennò fa pu 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 e dopo un po' che ascolti in cuffia d'altronde l'audio è una roba più importante, più importante del video e vedere queste scene patetiche di musicisti che fanno o mandano ah abbiamo registrato una canzone per il vostro programma e si mettono lì a fare la canzone in voce chitarra col microfono del telefono non si sente niente, va tutto in distorto oppure lo fanno col microfono del computer là e loro sono qui perché vogliono una ripresa grande non si sente niente voglio dire non è che siete dei pittori è un mezzo l'audio che non vi appartiene no sei un musicista porca pu... per cui io sono felice felice, felice di sapere che in una certa forma sicuramente ritorneremo a vederci ad abbracciarci a sputarci in faccia a fare le robe brutte insomma a socializzare per chi avrà voglia di farlo ovviamente certa gente però io lo so che le persone di buonsenso quelle che amano il contatto fisico o la relazione quella real to real vera finalmente manderanno un po' nel limite del possibile tutte le cose fatte in video a parte questi video qua che va bene è il mio soliloquio è il mio monologo perché noi ci abbiamo bisogno di socializzare ci abbiamo bisogno dai quando è iniziato il lockdown sembrava che con i concerti online risolvessimo tutti non abbiamo risolto niente non si può fare è difficile può farlo qualcuno di grosso ci vogliono dei mezzi per fare dei concerti online è complesso qualcuno lo può anche fare però senti che è come una roba che manca qualcosa e manca tanto manca tanto stare insieme nella stessa stanza è tanto è tanto